Grazie a tutti In Eri per Caso faremo un concerto di chiusura il 23 dicembre con i cori che si saranno esibiti qui su questa bellissima cassa armonica che campeggia da qualche sera l'hanno vista i cittadini di Ponte Caniano arrivare qui nella piazza qui dove c'era una fontana adesso c'è una cassa armonica che permette a tanti cori come la corale di Jesus Redeptor che avete appena ascoltato e che ascolterete ancora dopo esibirsi su questo palco perché vogliamo regalare la vera, la propria atmosfera di Natale agli amici che arriveranno dappertutto io ho incontrato già tanti amici provenienti da varie zone della Campania stasera qui e userò tutti i miei mezzi anche la mia radio insomma che è una radio nazionale perché a Ponte Caniano arrivino tante persone sta già accadendo e questo ci fa veramente ci rende orgogliosi e felici di aver scelto questa location per questa villa che era già bella ma adesso è diventata un incanto, un giardino degli elfi grazie, grazie veramente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Ciao Grazie 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 Grazie